Eccoci e bentornati sul mio canale, di nuovo con Destiny Multiplayer Stiamo andando a giocare la modalità scontro, sto entrando in una partita già in corso Un'altra, questa è una mappa che abbiamo già visto nella beta E praticamente vi stavo per dire, questa si chiama proprio modalità scontro Che è un vero e proprio deathmatch a squadre Quindi un 6 contro 6 Oh, qua dovete sparare là in fondo, che cacchio c'è sta Chi cacchio è che qua dentro spara? Oh, chi c'è sta un camper qua dentro? Ma persino qua c'è dovete stare fermi a camperare Oh, attenzione, hanno fatto prendere tipo un colpo Però siamo anche, se non sbaglio, vincendo Vorrei uccidere qualcuno però, eh Voglio provare sto modus, sto death, eccolo Sto deathmatch a squadre, eccolo E kill per me, uno, grande Passiamo qui per i corridoi Da capire pure come rinascono, eccolo Attenzione, che è? Ah, c'aveva la pistoletta, c'aveva, hai capito ragazzo Però dai, va bene anche così Pensavo peggio, sinceramente Dico, che cacchio di arma c'ha? Non mi sembrava neanche tutto sto grande livello Dai, dai, dai Attenzione, stanno tutti qua dentro, eh Entriamo dentro, mancano 4 minuti e così Ce la vediamo bene sta modalità Per fortuna è capitata pure una mappa Che praticamente non abbiamo ancora giocato qui Oh, che cacchio, qui su destiny Vedo sparare lì in fondo Eccolo Questo me cecchina, guarda, lo sapevo io che me cecchina Guardate quante energie gli ho levato però Scia la miseria Il cecchino è tosto Però gli avevo tolto un bel po' di energie E qua che cacchio so, rifiuti tossici Il bello è che si può girare finalmente tutta la mappa Tutta la mappa completa Quello sta cercando di salire Peccato che ci siano Sempre i soliti fermi A fondo mappa Che fanno solamente perdere tempo E non ci permettono di giocare Come uno vorrebbe Muori T'ho beccato, eh, cecchino Qua ne zitti che mi sono incastrato, però Zitti che mi sono incastrato L'ho visto qualcosa Ho visto qualcosa a muoversi là Forse ho visto male Qua non c'è sta niente Va, ripassiamo sopra, va Andiamo a vedere Se troviamo qualcun altro E che ci stanno Un mare di cecchini O meglio un paio Ce ne dovrebbero sta A fondo mappa Ecco, qualcuno là ci sta Andiamo a vedere Prima che qualcuno mi uccida Eccolo Eccolo Il guardiano Livello 20 Quello fa male E mi ha beccato il cecchino No, non mi sembra però un'armada No, mi sembra un fucile d'assalto classico No, pensavo peggio Sinceramente Come Come attacco Dico che cacchio era E perché soccati tutti insieme Poi mi ha fatto perdere Il livello 20 Che era veramente tosto Eccolo qua Questo Aia Ah, e vabbè Il cecchino Porco cane Pure io Che ancora non c'ho Una precisione impeccabile Poi questa non è che me Me faccia impazzire St'arma l'ho presa Perché Era l'unica disponibile Che c'era tanto danno Però Non è che È precisissima Quella del maresciallo A Che purtroppo A Danno Molto basso Però Nel senso Mi sembra sinceramente Molto più 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 precisa Non so voi Allora Attenti che l'ho visto qualcuno morire Oh Attenzione Questo non lo posso Uccidere Sta qualcuno qua Con questo cacchio De barracuda Che se ne va in giro Ci proviamo Ci proviamo Livello 20 E vabbè Immortale Come cacchio faccio Questo me Me sventra Io ho tirato una cortellata E non levate un bel po' Scappa Ce l'abbiamo dietro Ce l'abbiamo dietro Eccolo Vieni qua Mamma mia Qualcuno che Ah E vabbè Ma è livello 20 eh Ma hai visto quante cacchio De energie c'ha Ma quanto ci vuole Per ammazzarlo Soprattutto Vabbè dai Non fa niente Siamo pure capitati In una partita Già iniziata Che era pure da capire bene Com'è il funzionamento E poi è pure diversa Perché io me la ricordavo Per il discorso Oh Attenzione qua Me la ricordavo Per il discorso beta Però Consideriamo pure St'altro St'altra Oh Oh E muori St'altra considerazione Qua nel gioco completo Eh la mappa adesso è completa Prima ce la potiamo girare Solo un pezzettino Ora è tutta un'altra cosa Oh Quello mi ha abbandonato Quello che Che mi ha ammazzato due volte Mi ha ammazzato Quel maledetto cecchino Vieni qua Vieni qua Forza Ucciso Aia No Che cacchio Mi ha fregato Con sto saltino E pensavo che l'amico mio Mi desse una mano Invece no Siamo rimasti Praticamente fregati E non sono riuscito A spararli con la pistola O meglio Forse il colpo Sarà pure partito Però Ok La nostra squadra Ha vinto Vieni qua Ancora a livello 20 Che c'è Praticamente Un colpo E moriamo In un attimo Vabbè dai Abbiamo vinto lo stesso Niente Vi volevo far vedere Invece Quest'altra modalità Disponibile Su Destiny Sul multiplayer Che è scontro E ci vediamo Nei prossimi video Dove andiamo a vedere Anche le altre Modalità Multiplayer Disponibili Un radio Molto scarso Penso Tre uccisioni Sei morti Vabbè dai Siamo entrati pure A metà partita Però Almeno a capire Com'è il Funzionamento Anche di questa modalità Che è un pure e semplice Deathmatch A squadre Ci vediamo Nel prossimo video Insieme a Destiny Nel prossimo video Nel prossimo video